Musica 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 perché ho chiesto così molto, so... Porca! Guardate a me, perché siamo stavolati? Credo che sono stavolato? No. No. No, no. È molto interessante. È molto interessante. È sensitive, sì. Non guarda qui in questo caso. Da capo tutto. Va. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.